Ciao, sono Indira. Ciao, sono Abiru e vogliamo invitarti all'evento vacanza Holy Coan Days che organizziamo dal 10 al 16 agosto e per il quale abbiamo pensato di coniugare un'esperienza di ricerca interiore con la dimensione piacevole della vacanza. Holy Days significa letteralmente giorni sacri e questi giorni che passeremo insieme saranno una grande festa. Il termine Coan invece è proprio del buddismo Zen, indica una domanda paradossale alla quale esiste solo una risposta esperienziale e il trovare questa risposta coincide con il risveglio della tua consapevolezza. La sintesi del significato di questi due termini, Coan e Holy Days, è il significato profondo che vogliamo dare a questa vacanza. Saremo in un posto bellissimo, in mezzo alle colline piacentine, in un centro che si chiama Miripiri, esperimenteremo pittura, espansione del corpo attraverso esercizi, meditazioni, incontreremo nuovi amici, mangeremo cibo sano. E praticheremo con il Coan, appunto la domanda che in questo caso sarà chi c'è dentro. Ed è un veicolo estremamente efficace, potente, che ci conduce ad entrare in un intimo contatto con la vita. È quello che profondamente tutti noi desideriamo. E quando facciamo l'esperienza di questo contatto dentro la vita, troviamo finalmente l'appagamento che da sempre cerchiamo. Quello che porteremo a casa è il significato profondo della nostra vita, un senso di appagamento, di intimità. Il Coan sarà un amico fedele, un luogo interiore in cui puoi tornare in qualsiasi momento nella tua quotidianità e ritrovare questo senso di confidenza con te stesso. Quindi noi non vediamo l'ora di incontrarti e di passare questi giorni insieme a te. Clicca qua sotto per avere tutte le informazioni e ciao, a presto! Ciao! Ciao!